Non abbiamo ricevuto sue notizie. Lo shock della famiglia del concorrente sull'Isola delle Celebrità, rivelato dopo la puntata l'Isola dei famosi 2024 ha portato con sé non solo i celebri naufraghi, ma anche delle sorprese. Appena dopo aver presentato il gruppo dei quattro concorrenti semisconosciuti, Alvina Verecondi, Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Cadi Gueye, Vladimir Luxuria ha sconvolto il pubblico di Canale 5 con una notizia spiacevole. Ha annunciato che uno dei concorrenti si è ritirato per problemi di salute. Quindi, questa persona non è mai partita per l'Honduras insieme agli altri? Abbiamo un messaggio per voi, ha dichiarato la nuova padrona dell'Isola delle Celebrità dal centro dello studio, come riportato qui. Oltre ai quattro naufraghi che avete visto, avremmo dovuto avere anche Tonia Romano, ex militare e Miss Mamma Campania. Tuttavia, il concorrente non parteciperà all'episodio di stasera in onda lunedì 8 aprile a causa di problemi di salute. Dopo la trasmissione, la pagina Facebook ha precisato che Tonia Romano si trovava effettivamente in Honduras, ma i suoi parenti in Italia non sono ancora riusciti a mettersi in contatto con lei. Su Celebrity Island si è parlato di problemi di salute, suggerendo che Tonia Romano potrebbe essere impegnata con una visita medica. Pertanto, le persone a lei vicine non hanno ancora ricevuto sue notizie. Chi è Tonia Romano? A 37 anni, è nata ad Avellino e ha vissuto un'infanzia difficile a causa delle violenze subite dalla madre da parte del padre. Nel 2005 ha partecipato a Uomini e Donne, ma ha abbandonato lo spettacolo l'anno successivo per vincere il concorso dell'esercito italiano, diventando caporale. Durante il servizio militare ha conosciuto il suo ex marito, con cui ha avuto due figli, Maria e Andrea. Dopo il congedo, ha intrapreso la carriera di vigile del fuoco. Ora, attendiamo notizie ufficiali sulla sua partecipazione a Celebrity Island 2024. 24